ciao a tutti benvenuti in questo video domenicale vi volevo dire che siccome quando c'è bello andrò a fare dei bike vlog vi volevo portare i bike vlog solo di domenica quindi questo è un video così ecco solamente per dirvi che il nuovo contenuto verrà portato solo di domenica l'ora vabbè quando uscirà sempre domenica vedrete un'ora non è mai fissa quell'ora quindi può essere alle 3 alle 4 alle 5 alle 10 dipende 13 30 dipende quindi adesso registro il video per domani di gts forse ci sarà anche superbike vediamo